Aveva cocaina, marijuana, eroina e ashes in due involucri di cui uno nascosto nelle mutande. E' stato ammanettato un uomo dopo un difficile inseguimento lungo via Torino dagli agenti della polizia locale. Si chiama Erawi Abiudefe, nigeriano e senza fissa dimore in Italia. Stava bevendo delle birre in lattina insieme ad altre persone in via Torino quando una pattuglia antidegrado della polizia è intervenuta. Mentre gli agenti chiedevano documenti e generalità al gruppetto Il Giovane, che poi è stato arrestato, ha raccolto da terra una bici per frapporla tra sé e uno degli agenti che gli si stava avvicinando, poi gliela scagliata addosso. Si è dato alla fuga ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo definitivamente a terra ammanettandolo. Nel pacco raccolto e in quello nascosto negli slip c'erano cocaina ed eroina.